domenica è sempre domenica il disegno era la prima della classe ma andavo bene tutte le materie mamma mamma era molto contenta di me ah si oh madine a Roma drammatiche notizie in prima pagina non so ma che stavo sotto la galleria toccate questa manetta ma perchè stavo a Lucca? niente merita perdonate ecco si agisce che fai in dei film americani e il giornalista Lucca sempre si ma l'ultima è casa la gente perdonate e quali sarebbero queste drammatiche notizie? al Vomero un Napoli senza Vinicio affronta la luce prima in classifica e voi vi fate cinque piani di scala per venireci a dire che Vinicio non gioca e il generale ordina di vostra cognata perchè ora Olimpia si interessa di pallone? no mamma ieri c'è stata la prima a teatro e zia Olimpia sta aspettando le recensioni dello spettacolo mamma e come sta girata e perchè non sto qua girata pure lì e io non avevo un vento e non vengiamolo qui a cincere qui non ci sia me ma no c'è un 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 c'è e quindi